Salve, com'è il mio viso? Il mio viso non è destinato a me, ma agli altri. Sono gli altri che devono guardarlo, goderlo o subirlo. Il nostro volto, grazie ad un nervo e un complicato groviglio di muscoli, può creare oltre 5.000 espressioni. Il nostro volto è un giornale. Vivere con facce scure è la peggiore delle torture. Attenzione a ciò che pensate. Pensate cose belle e cose buone? Perché le dita dei nostri pensieri modellano sempre il nostro volto. Ognuno è responsabile della sua faccia. Com'è la tua? Prova a chiederlo ad un amico. Ciao. Ero 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 Grazie a tutti.